Anca al Talissetta, la Palazzo di Giustizia depone il magistrato Carmelo Petralia, indagato con la collega Anna Maria Palma nell'ambito dell'inchiesta sul depistaggio della strage Borsellino. I magistrati Anna Maria Palma e Carmelo Petralia sono indagati dalla procura di Messina per concorso in ecalunnia aggravata nell'ambito dell'inchiesta sul depistaggio delle indagini dopo la strage di Via D'Amelio in riferimento al periodo in cui da luglio del 1994 in poi hanno gestito insieme ad altri colleghi il falso pentito Vincenzo Scarantino e sono stati convocati a Caltanissetta, al Palazzo di Giustizia, a deporre al processo in ecorso sul depistaggio. L'audizione di Anna Maria Palma tra esame e controesame si è conclusa prima delle festività natalizie. Adesso è stata la volta di Carmelo Petralia, attualmente procuratore aggiunto a Catania, che ha risposto alle domande del pubblico ministero Stefano Luciani, il quale tra l'altro ha chiesto l'UMI sul perché fossero i servizi segreti, ad indagare nel 1992 nonostante non siano ufficiali di polizia giudiziaria. E Petralia ha risposto Dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio, visto lo shock generale subito dal paese, ci fu un concorso di contributi investigativi incredibile. C'erano momenti in cui nella stanza del procuratore capo di Caltanissetta, Giovanni Tinebra, c'erano funzionari dell'FBI o della polizia tedesca. E in quel contesto c'era anche la presenza di appartenenti ai servizi segreti, al SISDE. In particolare ricordo che c'era Bruno Contrada, con cui una volta andammo anche a pranzo all'hotel San Michele a Caltanissetta, dove io fui invitato da Tinebra. Di Contrada avevo comunque sentito parlare da collaboratori di Falcone, che mi avevano riferito tra l'altro di una diffidenza del magistrato verso di lui. Poco tempo dopo seppi che era stato arrestato a Palermo. A tenere i contatti con Contrada sicuramente era il capo dell'ufficio, Giovanni Tinebra. Vi fu un contributo informativo da parte del SISDE. In che modo si sia sostanziato e quanto sia durato non lo so. Non dissi nulla, ma se avessi saputo di indagini dei servizi segreti sulle stragi, anche io avrei esposto delle riserve. Oggi è relativamente facile cogliere le criticità di quell'indagine, ma allora c'erano i poliziotti che portavano elementi che avevano suscettibilità di sviluppo investigativo. Loro ci credevano e io non avevo gli strumenti per sospettare una mala fede. E poi Carmelo Petralì ha aggiunto «Non ho mai saputo nulla dei colloqui investigativi fatti dalla polizia con i falsi pentiti Scarantino e Andriotta. Sono rimasto stupito leggendo la sentenza Borsellino Quater, perché già all'epoca i due collaboravano con la procura di Caltanissetta». Questa prima fase delle indagini fu curata da Hilda Boccassini, che godeva dell'assoluta fiducia del procuratore capo di Nembra e aveva un rapporto personale privilegiato con il dottore Arnaldo Labarbera. Poi, sulle parole usate da Petralìa nell'intraprendere l'ascolto di Scarantino, ovvero «Si tenga forte, iniziamo un lavoro importantissimo, che è quello della sua preparazione alla deposizione al dibattimento». Lui, Carmelo Petralìa, ha replicato così. «Sulla concetto di preparazione, che è stato molto facile equivocare a livello mediatico, mi spiego, di fronte a collaboratori anche problematici come lui, significa rammentargli come deve comportarsi, non andare fuori dalle righe, evitare di replicare eventuali provocazioni. Insomma, quel codice comportamentale che ogni buon collaboratore di giustizia deve avere». Era il primo processo per la strage di Via D'Amelio. Il soggetto era problematico, e non nel senso di falso o mentitore e ingannatore della giustizia italiana, ma nel senso che era un soggetto che aveva più criticità. Quindi bisognava avere più attenzione nel prepararlo per una veritiera esposizione delle sue conoscenze. «Il concetto di preparazione, anche se può essere equivocato, perché ovviamente è stato molto comodo e molto facile equivocarlo a livello mediatico».